Venerdì 30 giugno, ben ritrovati su Vercelli Web TV. Da lunedì 3 a sabato 29 luglio a Vercelli sarà operativo l'eco-cassone itineranti per la raccolta dei rifiuti ingombranti. Si tratta di un container dedicato alla raccolta dei rifiuti ingombranti che stazionerà ogni giorno in due aree della città. Da lunedì al sabato dalle ore 6 alle ore 12 e dalle ore 12 alle ore 18 coprendo un totale di 12 siti con rotazione settimanale. Risco in particolare agli abbandoni degli ingombranti che sono uno dei temi che vediamo spesso problema di prossimità rispetto ai cassonetti. Vediamo questi abbandoni di rifiuti che non sono correttamente conferiti dai cittadini per cui abbiamo voluto innanzitutto lanciare queste iniziative e poi adesso mettere anche a disposizione della cittadinanza uno strumento ulteriore rispetto ai centri multiraccolta e al servizio di ritiro ingombranti e supernotazione che è quello dei cosiddetti eco-cassoni o meglio l'eco-cassone che sarà a disposizione in 12 punti a rotazione nei giorni di luglio in 12 punti che abbiamo individuato sul territorio vercellese dando una terza possibilità di conferire questi rifiuti ingombranti. Nuove assunzioni in vista per gli ospedali del territorio. Sarà infatti completata entro il 2017 la selezione di infermiere per le asle di Vercelli, Novara, VCO e per l'azienda ospedaliera maggiore della Carità di Novara. Saranno 20 posti suddivisi in 5 per ogni azienda. Le domande per partecipare potranno essere presentate esclusivamente online attraverso un'apposita piattaforma informatica. Il bando nei prossimi giorni sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale e il concorso sarà poi espletato in autunno. Saranno affidati ai comuni che risultano titolari delle cappelle e restauri delle stesse al Sacromonte di Crea. Anche Vercelli sarà interessata. Vediamo il servizio. Le 27 cappelle che compongono il percorso devozionale del Sacromonte di Crea proclamato Patrimonio dell'Umanità dall'UNESCO portano si di esse le lapidi con i nomi delle rispettive vicarie della diocesi di Casale Monferrato cui sono state assegnate a suo tempo. Partendo da questo dato di fatto, il Rettore del Santuario di Crea nonché Vice Presidente dell'Ente di Gestione dei Sacrimonti Piemontesi e Lombardi Monsignor Francesco Mancinelli propone che i comuni intestatari prendano a cuore le rispettive cappelle, però dichiara non nel senso di contributi finanziari diretti, ma con il sensibilizzare rispettive comunità ad iniziative di fundraising che consentono la manutenzione ordinaria delle cappelle stesse. E tra i comuni in questione c'è anche il Comune di Vercelli con la cappella di Sant'Eusebio e del resto fu proprio il santo a portare a creare la Statua di Maria da secoli oggetti di devozione. Lunedì prossimo, 3 luglio, dalle ore 9 alle ore 13, si terrà presso la Sala Biginelli dell'Ascom di Vercelli, ingresso via Lavini 27, il primo degli incontri dedicati al mondo del commercio sul web. Si tratterà di quattro lezioni di quattro ore ciascuna alla settimana nelle quali sarà illustrato come aprire il negozio su ebay, come configurarlo anche graficamente, come integrarlo con le forme di pagamento e mettere online i prodotti per iniziare a vendere. Per informazioni contattare gli uffici di Ascom Vercelli. Il dirigente scolastico dell'Istituto Compressivo Ferraris di Vercelli Giancarlo Crivellari va in pensione. Il Comune ha voluto consegnargli un riconoscimento per i lunghi anni di insegnamento. Ho fatto un percorso dirigenziale abbastanza lungo, partendo soprattutto dalla Valsesia, ho seguito l'Istituto Compressivo di Balmuccia, poi ho seguito l'Istituto Compressivo di Tronzano e nel 2009 sono arrivato a Vercelli. Preside di un istituto molto importante, diciamo il primo istituto comprensivo di Vercelli e dal 2009 ho iniziato un percorso particolare. Essendo un ex insegnante di informatica, di matematica e informatica ho iniziato subito a incentivare l'utilizzo dello strumento informatico a scuola e soprattutto l'anno successivo ho impostato un percorso di ampliamento dello studio dell'inglese. Lascio la scuola perché ho raggiunto i limiti di età, sono prossimo alla pensione, perché diventerò nonno, seguirò questo percorso di un nonno contento, felice, anche se rimane nella scuola un po' del mio cuore perché ho trovato dei collaboratori eccezionali, ho trovato un ambiente, una famiglia che è stata per me in questi anni veramente una famiglia molto, molto, molto importante. Incontro aperto alla comunità lunedì prossimo alle 18 presso il piccolo studio del Sant'Andrea Vercelli. Si parlerà di inquinamento e malattie, di inquinamento delle falde e dell'inceneritore. Il meeting è organizzato dai consiglieri comunali Alessandro Stecco, Michelangelo Catricalà, Stefano Pasquino e Renata Torazzo. Interverranno medici ed oncologi. L'ingresso è libero. Si svolge domani la seconda edizione del Picnic Colorato e se stessimo tutti a piedi nudi sull'erba, organizzato dai giovani che hanno svolto, stanno svolgendo, il servizio civile nei progetti coordinati dal comune di Vercelli ed Enti Partner. Si tratta di un picnic che si terrà nei prati del Sant'Andrea. Come ad ogni picnic si viene con le proprie vettovaglie e tutto l'armamentario per stare in compagnia seduti sul prato, condividendo con i vicini il cibo. Come l'anno scorso, anche quest'anno è prevista la partecipazione di diversi stranieri presenti a Vercelli. Appuntamento domani alle 19.30. Ed ora un attimo di pubblicità e poi lo sport. Torna l'open day del GSD Canada Torino FC Academy. Appuntamento martedì 4 luglio nell'impianto del Centro Sportivo Comunale a Renzo Maglione di Via Cantarana a Vercelli. Si comincia alle 17.30. Sono invitati tutti i bambini delle classi che vanno dal 2005 al 2012. L'open day è per chiunque abbia voglia di mettersi alla prova. Durante la manifestazione i baby calciatori saranno suddivisi per gruppi e faranno mini allenamenti con i tecnici del GSD Canada e avranno così la possibilità di conoscere il mondo di lavorare della società. I dirigenti invece saranno a disposizione delle famiglie per fornire informazioni di qualsiasi tipo in vista della stagione 2017-2018. La partecipazione all'open day è gratuita. Per questa edizione del nostro telegiornale è tutto. Noi ci vediamo come sempre lunedì sera alle 19.00. E per il momento un buon weekend a tutti. Grazie. 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 Grazie a tutti.